Mi sono scordato un bastoncino fuori posto l'Aisa Ed è bagnato e non lo posso andare a prendere Là sul tavolo Ma è lo stesso L'antimo vero che ho lavato adesso Carissimi ragazzi di Casa Flaminio Sono le ore 19 E da stamattina alle ore 10 e mezza Ciccio e Isabel hanno fatto solo buonso a pranzo Hanno pulito i bagni di Casa Flaminio Il pavimento di Casa Flaminio La cucina di Casa Flaminio Ma per pulire io dico integralmente Ora Ora Io e Isabel vorremmo che la casa Rimanesse in questo modo Ecco Se no Isabel Isabel dice Mai andare in Casa Flaminio se stai per sporcarla Mai 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 Oppure Che abbiamo un uccello nel bagno Vuodetto Mi 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 Say Mar Grazie.